. Registrazione Uomini e Donne, la scelta di Sara e Niloufar, laddio finale. È tutto pronto per le attese registrazioni finali delle scelte dei tronisti di Uomini e Donne. Le anticipazioni ufficiali rivelano che ormai manca davvero pochissima allatteso momento. Dove avremo modo di vedere le troniste Sara e Niloufar compiere la loro attesa scelta e quindi abbandonare lo studio del dating show di Maria De Filippi con la persona del loro cuore che potrebbe diventare il fidanzato ufficiale. Colpo di scena a Uomini e Donne, Niloufar bacia Giordano. Sia il percorso di Sara che quello di Niloufar in queste ultime settimane ha riservato un bel po' di colpi di scena molti dei quali hanno spiazzato i fan della trasmissione di Canale 5. Nel dettaglio le anticipazioni che arrivano direttamente dall'ultima registrazione del trono classico di questa settimana rivelano che per Niloufar è arrivato il momento della resa dei conti con Giordano. Quest'ultimo dopo aver maturato la decisione di abbandonare definitivamente il programma di Canale 5 ha scelto di ripresentarsi di nuovo in studio e la sua presenza ha subito acceso gli animi dell'altro corteggiatore Nicolo. Che è letteralmente sbiancato nel momento in cui ha avuto modo di vedere la nuova esterna che Niloufar e Giordano hanno fatto assieme questa settimana. Un incontro decisamente molto emozionante e soprattutto ricco di baci tra i due, che si sono lasciati andare alla passione travolgente. Al punto che la stessa Niloufar non riusciva a trattenersi dal baciarlo ripetutamente e ha chiesto a Giordano di non smettere di darle attenzioni. Per gli spettatori e i fan due di questa esterna tra i due anticiperebbe la scelta della tronista che è in programma ai primi di maggio. Sara ha già fatto la scelta finale? Ecco cos'è successa a Uomini e Donne. Ma nel corso dell'ultima registrazione prescelte di Uomini e Donne di questa settimana, ci sono stati dei colpi di scena inattesi anche per la bella Sara Affifella, che ha dovuto fare i conti con l'addio da parte di Luigi. Il corteggiatore ha deciso di abbandonare il programma stufo di vedere i comportamenti della tronista con il suo rivale Lorenzo. Per Luigi, infatti, non ci sarebbero dubbi sul fatto che Sara si sia innamorata di lui e proprio per questo motivo ha deciso di chiudere definitivamente questo capitolo. Questa volta, però, la tronista pare che abbia accettato la decisione di Luigi e ha deciso di non rincorrerlo e quindi di non andare a riprenderlo, concentrandosi su Lorenzo. Questa volta, la tronista pare che abbia accettato la rincorrinca. Scegliere un'immagine del progetto evo. Questa volta, la tronista pare che abbia accettato il nostro corso.